Care e care, vi presento il mio nuovo libro, Canti della Gratitudine, esce il 3 gennaio. Vi faccio anche gli auguri di buon Natale, di buone feste e soprattutto gli auguri di essere lieti, empatici, attenti, accoglienti. Questo più che mai è il tempo della gentilezza. Portare il broncio al mondo è un esercizio inutile. Un abbraccio a tutti.